Quello che poi è stato fedelmente, con estrema correttezza, riportato nell'ambito dell'intervista. In sintesi, la assoluzione Carpi, per chi ha vissuto tecnicamente il processo, pone all'evidenza che da domani mattina, ovvero nel prosieguo, a seguito anche di una serie di sentenze che negli ultimi 10-15 anni si sono registrate, la Procura della Repubblica impersonalmente intesa, cioè come l'ufficio che deve valutare il promovimento dell'azione penale sulla scorta delle denunce di Arnone, dovrebbe, e sono certo comunque che abbia agito nel corso di questi anni con assoluta buona fede ed onestà intellettuale, valutare se nel momento in cui arrivano sul tavolo dei procuratori le denunce, queste abbiano il fumus dell'indizio concreto o se queste, visto gli epiloghi che ci sono stati nel corso di questi anni, con diverse assoluzioni, non rischiano di vedere poi delle sentenze di assoluzione, ma nel frattempo, tra il promovimento della denunce e le copiose sentenze di assoluzione ci sono gli anni del processo, le sofferenze, qualcuno si ammala, qualcun altro muore, qualcuno è ostaggio politico, quindi credo che in questa direzione, quando dico che il metodo Arnone è un metodo in crisi, dico che Arnone connota le denunce che arrivano alla procura della Repubblica di un sapore politico e di parte che poco ha a che vedere con il tecnicismo giudiziario. Veda alla luce, e gli introduco un argomento volutamente, diciamo, sagace, dell'assoluzione di Carmelo Piccarella, potrei ascrivere il merito ai miei colleghi, l'avvocato Camilleri, l'avvocato Alaimo, l'avvocato Gazziano, l'avvocato Tarallo, e in ultimo a me, e l'avvocato Annalisa Russello, e in ultimo a me, ma direi una bugia, perché secondo me l'assoluzione interviene per la inconsistenza del costrutto accusatorio, la domanda a conclusione di questa mia premessa è, se Piccarella fosse stato denunciato, parlo di Piccarella perché sono l'unico legittimato, e sono, diciamo, legittimato a poterne fare il cognome, ma non voglio personalizzare, ma se il cittadino del processo Carpi fosse stato denunciato, invece che Darnone e Giuseppe, con la qualifica soggettiva che ricopre in queste città, e con quello che ha fatto negli ultimi vent'anni, fosse stato denunciato dal soggetto cittadino anonimo di questa città, si sarebbe fatto un processo durato quattro anni o si sarebbe come giusto che sia archiviata la denuncia. In sintesi, l'assoluzione interviene perché i fatti denunciati da Darnone possono avere un valore politico nel contraddicere con l'avversario, ma non hanno uno spessore che riguarda il codice penale. E siccome dietro il codice penale c'è la sofferenza di una possibile pena, io credo che il metodo Arnone oggi, nel 2010, sia profondamente entrato in crisi. Questo è il senso della mia intervista. Mi fa piacere che oggi lei mi invita, o che la televisione mi invita, per poter fare un confronto. Lo dico a pertis verbis senza timore. Io credo che oggi, quando Arnone denuncerà i fatti, prudenza e buonsenso vuole che i procuratori valutino e si pongano la domanda la denuncia è finalizzata a un criterio di legalità o la denuncia è finalizzata per paralizzare l'avversario politico. A mio modo di vedere, i fatti dimostrano che le denunce di Arnone sono spesso finalizzate, anche se le sentenze dei tribunali e delle corti di appello poi lo contraddicono, nei fatti, a tenere in ostaggio l'avversario politico. E questo, secondo me, è un metodo da abbandonare. Alla luce del fatto, dico, che oggi lui è classe dirigente in questa città. Perché è innegabile. È al governo della città, certo è al governo con interposta persona, ma aggiungo io, è leader del comune di Agrigento, perché appunto di riferimento di un fatto democratico, e chiudo, importantissimo, mille cittadini lo hanno votato e mille cittadini che mettono il nome e il cognome sicuramente hanno ragioni per poterlo fare. Quindi lui oggi è di fronte ad un bivio. Può dimostrare anche a me, che sono cittadino di questa città, che tutto quello che lui nel corso di questi 20 anni ha denunciato e che i tribunali hanno sconfessato possa diventare sana azione di governo e possa governare questa città secondo i criteri di legalità che lui ritiene siano stati omessi nel corso di questi 20 anni. Quindi lo spirito era un po' provocatorio per aprire il dibattito, non era quello di parlare di carte, perché i processi si vincono e si perdono, ma nelle aule giudiziarie, non certo nei dibattiti politici. Bene, Avvocato Arnone, allora innanzitutto il metodo Arnone, io non le chiedo subito di replicare alle dichiarazioni dell'Avvocato Pennica sul metodo Arnone, ma le chiedo in primis, esiste davvero un metodo Arnone tecnicamente? No, esiste una terra, la terra grigentina, che è stata massacrata letteralmente da una classe dirigente che si è nutrita di illegalità. Io proporrò alla vostra emittente nei prossimi giorni di realizzare un'intervista, anzi, nella stessa trasmissione tema, con l'assessore Olimpia Campo, che è appunto una dirigente regionale da me enormemente stimata, alla quale ho chiesto di prestare la sua opera, di vivere questa esperienza all'interno dell'Aggiunta Zambuto. E le prime settimane di permanenza di Olimpia Campo all'interno dell'Aggiunta Zambuto hanno fatto vivere ad una dirigente della regione siciliana, non ad una dirigente della regione Piemonte o della regione Emilia Romagna, un'esperienza sconvoltante per quanto riguarda lo Stato amministrativo, cioè burocratico, in cui versa il comune di Agrigento. Malgrado gli sforzi enormi che ha fatto Marco Zambuto e che io pienamente gli riconosco, ho detto senza mezzi termini in più occasioni, che è sicuramente il migliore dei sindaci che questa città abbia mai avuto nella sua storia, ancora siamo lontani da strutturare il comune come una normale pubblica amministrazione. E questo perché noi abbiamo avuto all'interno del comune di Agrigento logiche soltanto di assoluta illegalità, logiche dove la ricerca del beneficio personale del politico e dell'amministratore era così marcata da calpestare ogni esigenza di buona amministrazione. Noi abbiamo avuto un sindaco, non faccio neanche il nome, che oggi è pregiudicato per una molteplicità di reati, che ritenne di nominare a capo dell'ufficio urbanistica, cioè dirigente dell'urbanistica, della città dei Templi, cioè della città della Valle dei Templi, di una delle città più importanti per quanto riguarda la valorizzazione del territorio, un distinto signore che in vita sua l'urbanistica l'aveva vista negli anni 60, fu nominato dirigente alla fine degli anni 90, quando era all'università. In un processo gli chiesi, ma lei era dirigente dell'urbanistica? Sì. Ma lei di urbanistica che ne capiva? E questo rispose, ma l'ho studiata alla fine degli anni 60. Sì, quindi lei non ha studiato neanche la riforma urbanistica? Sì, no, non ho studiato la riforma urbanistica perché è venuta dopo la mia laurea. E nei 30 anni precedenti lavorava in ospedale, si occupava di un'utenzione, quindi non aveva nessuna idea. Allora, quello era il criterio con cui si amministrava la città. Ora, io voglio anche chiarire a Totò Pennica, che è persona intelligente, qualificata, che reputo un amico, che, diciamo, alcune sue affermazioni sono del tutto gratuite.